Al presidio Anticamorra svolto dinanzi l'inceneritore e l'ambiente di Pozzilli nel pomeriggio di ieri erano presenti anche gli esponenti del Partito Comunista dei Lavoratori, movimento che ribadisce le proprie proposte alternative all'inceneritore nell'ambito del progetto Rifiuti Zero e di Economia Circolare, utilizzare il posto degli inceneritori nelle nuove tecnologie di trattamento meccanico biologico consolidate in diverse località della penisola e che consentono di recuperare tutto il materiale non riciclato scartato dalla differenziata. Questa moderna tecnologia, a differenza dell'inceneritore, non immette inquinamento e meno costose non lascia scarti da smaltire. Il PCL è convinto che bisogna assicurare la gestione pubblica e controllata di questi impianti per le esigenze dei cittadini e non per il profitto di speculatori. Inoltre occorre avviare le procedure per spegnere tutti gli inceneritori presenti in regione in modo da salvaguardare le campagne dall'inquinamento, iniziare una serie indagine epidemiologica nella piana di Venafro e un progetto di bonifica dell'area recuperandone anche la vocazione per l'agricoltura biologica. La legge del profitto delle società multinazionali e di una parte dei politici locali che avvelenano il Molise deve essere rovesciata. La conclusione di Tiziano Di Clemente quanto più scarti possibili devono essere riciclati e non bruciati.